Sì, sì, sono stati sei mesi particolari, dopo un anno piuttosto positivo al Prato, però adesso sono approdato qua a Pistoia per ritrovarmi, per cercare di dare una mano a questa squadra che ho notato subito un grandissimo senso di appartenenza da parte di tutti, della squadra e degli addetti ai lavori. Mi definisco un giocatore abbastanza tecnico a cui piace giocare e buttarsi in profondità. Sì, sì, come appunto dicevo l'anno scorso fu una bella annata che mi permise di provare a fare il salto di categoria, purtroppo le aspettative non sono andate come dovevano, ma nessun rammarico, adesso devo solo pensare a far bene e a divertirmi. Ma sto meglio, come ho detto, sono sulla via di guarigione, in una decina di giorni dovrei comunque essere in campo con la squadra. Ora inizialmente faccio un lavoro personalizzato col preparatore e poi dalla prossima settimana mi dovrei integrare piano piano con la squadra. Sì, ultimamente, l'ultimo anno ho giocato poco per via di infortuni e avevo altre offerte però sono venuto qua proprio perché mi manca il campo, voglio ritrovare la continuità e sono contento di essere qua. Sì, sì, davanti posso variare un po' tutto il fronte e ho parlato anche col mister e sono a disposizione del mister. Grazie! 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 Grazie!